bene 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 buongiorno a tutti buongiorno ciao benvenuti bentornati sul nostro canale il pezzo di oggi è la nostra ultima canzone di motta prima di passare alla spiegazione che oggi vedrà anche una prima parte iniziale un po diversa vi ricordo di iscrivervi al canale cliccare sulla campanella mettere mi piace al video poi trovate in descrizione il link per scaricare la parte in mp3 e per scaricare anche scusate ho detto la parte in mp3 la parte pdf e il file mp3 personaggi sopra dove avete tutti gli altri strumenti meno la chitarra così potete esercitarvi da soli bene vediamo la spiegazione del brano il pezzo vedete la parte è una parte in re re la mi mi ok c'è una questione però che il pezzo in realtà non è suonato in quel modo il pezzo suona il re bemolle c'è il primo accordo poi lo sentite con questo suono qua che sarebbe il brano sarebbe re bemolle la bemolle mi bemolle ma io sulla chitarra mi bolle non ce l'ho invece io avrei bisogno di questo ok potrei scordare una corda solo ma diventa una roba veramente complessa e allora quello che facciamo è che scordiamo tutto quindi avremo mi bemolle il mi diventa mi bemolle quando fate un'operazione del genere su tutte le corde non state a raccordare proprio fine è fatto una prima passata e poi il manico della chitarra si assesta leggermente ok si fa proprio questo si accorde e poi si riparte ripeto generalmente io tendo a non stare a cercare la perfezione su ogni corda ma faccio due tre passate mi avvicino ok magari hai fatto un po di stretching alle corde e ricontro la tonata perché la corda ha sempre un po di memoria quando scendete di un suometono lei tende sempre a diventare un pochino crescente poi ecco per me l'accordo che dice che la chitarra è accordata è il mi maggiore se il mi maggiore suona bene ci sia altri altri maestri il grande maestro canibara diceva dipende un po' da cosa dovete eseguire perché la chitarra a volte è uno strumento anzi quasi sempre noi abbiamo uno strumento che per sua natura intrissecamente non è perfettamente accordabile e quindi diciamo dipende da cosa dovete suonare se dovete suonare una canzone come quella che andremo a eseguire adesso che deve suonare bene a capotasto cercate di accordare in modo pare che qui siamo a posto se dovete suonare un brano che ha un'estensione in cui la vostra parte è un'estensione molto ampia cioè dovete correre sul manico orizzontalmente fino alle note più alte il grande canibara diceva cercate di accordare bene un accordo a metà strumento in modo tale che trovate una mediazione un accordatura che ti permette di suonare decentemente accordato in tutti i registri della chitarra ok detto questo intanto che ho parlato ho lasciato assistare ancora un attimo controllino ok ci siamo quasi andiamo a vedere il brano ok adesso dovreste sentirmi un po' meglio in sostanza noi abbiamo una parte molto semplice fa questa cosa qua io sto usando le dita ok o meglio pick and finger come lo chiamano gli americani play 3 dita ok però potete anche sfruttare il brano per fare un po' di esercizio di tecnica quindi farei e qua dentro anche se sono accordi semplici perché sono accordi di re la e mi c'è tanta roba nascosta difficile ad esempio se quando io sto suonando re posso fare tutto in giù oppure fare e poi l'altra cosa è quando vado in la ho quello che si chiama tecnicamente in inglese string skipping cioè il salto di corde e questo sembra facile quando riesci a farlo quando lo vedi fare da uno che ci riesce ma non è facile anche qui potete divertirvi a fare la cosa sia solo penata in giù penata alternata o pletri dita oppure mettete il pletto per terra e diventa tutto più facile ok andiamo a vedere gli accordi alla battuta 21 c'è un si minore del quale chitarrista suona sempre e solo due note ok se siete dei metallari avrete riconosciuto il powercore qui lui usa questo ok quindi la battuta 21 succede e qui se usate il pletro e dita io quando vado su questa ho uno spazio molto alto volendo e poi andiamo avanti con il resto volendo la canzone si potrebbe suonare anche in un'altra zona della chitarra facendo questo re che ci sono per incontro è molto più facile mi sposto molto di meno ho salti di corde molto più semplici ma mi devo avventurare a me il re è il powercore preso da una forma di la la su quando vado in la c'è la vuoto il mi è qui e come stavo suonando la la e poi mi serve il sol diesis ecco il sol diesis Quindi la canzone diventa molto facile. Sentite un po' di zzzzz için. Apro una piccola parentesi tecnica e poi andiamo a vedere il resto della cosa. Avendo scordato tutto ho ridotto notevolmente la tensione che le corde applicano al manico. e quindi il manico anziché avere la curvatura leggera che fa suonare le corde libere senza friggere sia un po' raddrizzato e questo fa sì che quella che si chiama action l'action si abbassa e quindi la corda ha poco spazio per vibrare qui cioè per muoversi liberamente quindi tende a rimbalzare sul ferro del tasto cioè tende a fare questo dipende molto dal tuo stile da quanto picchi se usi il pletro oppure no senza pletro generalmente succede niente col pletro il pletro tende a dare a imprimere e a trasmettere molta più energia alla corda la corda tende a reagire più velocemente questo cambia il timbro ma cambia anche il modo proprio di muoversi della corda ne parleremo in un altro speciale in un altro tutorial andiamo avanti nella seconda pagina poi avremo una pausa e non ci sono altre cose particolari l'ultima cosa poi chiudo ricordatevi sempre che una spartita come questo due pagine un sacco di note però ed è codificabile molto semplicemente nel senso che una volta imparata la prima riga una volta imparata la riga numero che parte dalla battuta 21 dove trovate la scritta chorus ritornello avete finito perché la canzone è tutta così è costruita su due strutture ok non c'è altro per cui una volta riuscite a suonare una volta che siete riusciti a suonare questo avete finito la prima struttura la seconda è questa ecco io ho sbagliato perché stavo pensando una cosa il contro l'altro contro deve andare quassù è questo il rumore il string bass cioè il rumore delle corde se è voluto è bello se no no ok su questa cosa alla palissiana chiudo e passiamo all'esecuzione del brano ciao 1 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 12 12 13 12 15 13 13 13 14 15 15 16 15 15 16 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.